Le belle donne sono invisibili. Vedi solo la bella facciata, ti blocca la barriera della bellezza. Ammaliati dall'aspetto esteriore, non arriviamo mai al mondo interiore. Sono sempre stato sensibile alla bellezza femminile. Signorina Castiglio? Consuela, evitiamo di essere formali. Vuoi vedere una cosa? Lei assomiglia a te e tu assomigli a lei. Non lo so. Chi è che trova incantevole una persona al di là del sesso? Lei è un uomo molto affascinante. E lo sa, vero? Sei un'opera d'arte. Un'autentica opera d'arte. Ringrazio la tua buona stella di aver vissuto un'avventura come questa. Non è stata solo un'avventura. Devo uscire stasera. Davvero? E con chi? Con mio fratello. Non sapevo che avessi un fratello. Ci sono tante cose di cui ancora non ti ho parlato. Che cosa ci fai qui? Hai deciso di rovinare tutto. Dove sei? Cerca di fidarti di me. Avrai me come unico tuo pubblico. Non avrebbe dovuto succedere niente tra noi. Hai cercato mai di immaginare un futuro con me? E quelli non spaventarmi. Non c'è nessuno con me. La devi lasciare, mi manca. Devo chiederti un favore. Lo posso chiedere soltanto a te. Io ti sei, sai già? Non ho suicidas con me. Ti sei. E n related.